Mi chiamo Petto Schreiner, sono stato per quasi 30 anni professore di storia e letteratura piccantina all'Università di Colonia. Ho fatto i miei studi, filologia classica, slavistica e certe altre cose all'Università di Monaco, ho studiato anche in Francia. Il mio primo lavoro nel senso proprio è stato alla Biblioteca Vaticana, subito dopo il dottorato, alla fine degli anni 60. Sono stato scrittore per manoscritti greci, vuol dire una di sei, sette studiosi in Biblioteca Vaticana che si occupano professionalmente della descrizione, della catalogizzazione di manoscritti, diversi manoscritti, manoscritti greci, manoscritti latini, manoscritti orientali, eccetera. A me hanno affidato la descrizione di un gruppo, di una sessantina di manoscritti che ho terminato molto, molto più tardi, quando ci ha lasciato la Biblioteca Vaticana, è uscito questo catalogo nel anno 1988, però è diventato un bel catalogo secondo le norme della Biblioteca Vaticana in descrizione in lingua latina. Dopo quattro anni, adesso ritorno un po' nella mia carriera, dopo quattro anni ho lasciato la Biblioteca Vaticana perché mi sono più interessato della carriera all'università. Sono stato libero docente all'università libera di Berlino e dopo un paio di anni ho cambiato all'università di Colonia dove sono rimasto, come ho già detto, quasi 30 anni insegnamento in prima linea, ma tutto quello sono stato anche capo di un dipartimento di studi pezzantini e neoelenici. I miei centri di lavoro naturalmente dipendono dalla carriera alla Biblioteca Vaticana, sempre manoscritti, paleografia, codicologia, ma all'università naturalmente avevo anche altri obblighi dell'insediamento e di studi e così mi sono un po' concentrato ai studi dei paesi dell'impero bizantino nei paesi balcanici. Ho pubblicato molto in questo settore, recentemente ho scritto, ho edito un manuale di storia dei paesi balcanici nel Medioevo. Dunque naturalmente sono di formazione bizantinista ma sempre ho avuto i miei interessi anche un po' fuori dell'impero bizantino e qui in prima linea nei paesi balcanici che conosco anche abbastanza bene in viaggi, ho tenuto molto conferenze e con questo interesse ai paesi balcanici o a questi interessi ai paesi balcanici è legato naturalmente anche il mio interesse all'albania perché dal punto di vista culturale l'albania fa parte del mondo balcanico e indirettamente forse anche direttamente è sommesso e sommessa all'influsso culturale e questo potrebbe essere anche un punto di partenza per eventuali sicure domande da vostra parte. Perché è interessante il tuo colloquio nel periodo della settimana dell'albania fa? Per cui è importante il codice del 1993? Il codice è pubblicato in Albania magari 7 o 8 anni fa per l'andirombetzi e è tradizionato in un linguaggio per gli gregi, in un linguaggio albanico e in inglese. Perché è importante questo codice? Sì, ho scelto come argomento in questo congresso di studi albanologici il manoscritto 93 e corce perché mi sembra significativo per quello che ho anche sottolineato nella conferenza che mi sembra significativo per la simbiosi tra la cultura albanese e la cultura bizantina. Non dobbiamo dimenticare che gli albanesi quando non avevano ancora avuto uno stato nel senso politico ciò che è successo molto molto tardi ma gli albanesi come popolazione esistevano esistevano sin già prima della fine dell'antichità appartiene ad altri di discutere sui problemi della genesi degli albanesi questo non è il lavoro e l'obbligo del bizantinista però questa popolazione era sempre presente non parliamo in quel momento neanche dove era più o meno concentrato questo non gioca in quel senso nessun ruolo ma in ogni modo questa popolazione con una propria lingua una propria cultura di cui sappiamo purtroppo molto molto poco si troveva sempre sul territorio bizantino in contatto per i bizantini. Naturalmente questo manoscritto su cui ho parlato quello che ho preso come un esempio ci sono ancora altri esempi come un esempio mi sembra importante nel fatto che è stato creato questo avancello scritto naturalmente nel mezzo dell'impero bizantino a Costantinopoli e ha poi come grazie a certe notizie nel manoscritto stesso che potevo far vedere ha fatto un cammino da Costantinopoli fino in territorio sicuramente albanese eppero territorio misto albanese greco e che è stato poi in mano di persone privati albanesi che l'hanno avuto nella loro biblioteca finché sia stata venduta alla fine del secolo passato dato quasi in regalo all'archivio nazionale di Tirana e questo manoscritto di origine chiaramente greco e bizantino è passato a albanesi che si sono interessati nella stessa maniera perché c'era un fondo comune per ambe due e questo è stato l'importanza di un manoscritto di Vangelo per la fede ortodossa. La fede ortodossa è stata per gli albanesi del medioevo è stato un fattore di grandissima importanza perché nonostante le differenze di nazionalità, le differenze della lingua perché questo fattore ha unito gli albanesi con i bizantini e si può chiedere, c'è o domandare, non c'è un altro oggetto che potesse unire due popoli meglio che un Vangelo che unisce i popoli sotto la stessa fede. Perché è importante, professor Petro, perché hai così molte libri per l'imperio del Byzantino Perché è importante studiare la storia in 1000 anni? Perché ho la questione e l'imperio del Dio Cresciano e il grande Costantino e i anni 245 o 3033 e hai discussioni per questo? No, dunque, questa sua domanda intende l'importanza della conoscenza della storia e cultura pezzantina in generale. È una domanda molto importante e naturalmente non per la prima volta mi chiedono. È un fatto, soprattutto nella società di oggi, molto interessante che la gente, anche gli studiosi, sottocenti intendo in prima linea gli studiosi, si interessano della storia dell'Occidente, medioevo e praticamente sempre il medievo occidentale. E poi viene quasi un muro e dietro di questo muro comincia l'impero bizantino. Oltre all'impero bizantino abbiamo il mondo orientale musulmano. E il fatto che io osservo molto spesso che, soprattutto in prima linea, in occidente, nelle cerchie degli studiosi, si parla delle relazioni tra l'Occidente e l'Oriente, senza pensare a quello che sta tra l'Occidente e il vero Oriente. E questo è l'impero bizantino. L'impero bizantino è, nonostante tantissimi lavori che sono usciti, è sempre rimasto. Fino ad oggi, così, sono sicurissimi, sicurissimo, è finora un spazio abbastanza vuoto, in cui sono certi punti noti, diciamo, il periodo dell'iconoglasmo, di questo si parla, poi naturalmente i grociati e la fine di Costantinopoli, la presa dagli Osmani. ma gli altri secoli rimangono quasi ignoti. Sono sempre, per gran parte degli studiosi, un mondo ignoto. Vorrei ricordare un esempio che mi sembra significativo. E' uscito poco fa, in una grande casa editrice tedesca, sono usciti sei o sette volumi che si chiamano Storia dell'Europa. Però si cerca, senza nessun risultato positivo, tra questi volumi, un volume in cui si scrive o in cui è trattato l'impero pizzantino. Il nostro impegno, questo vuol dire l'impegno dei pizzantinisti e della pizzantinologia, deve essere di colmare questa lacuna e di rendere l'impero pizzantino, o lo studio dell'impero pizzantino come un fattore assolutamente necessario per la conoscenza di un'Europa totale. Quando si parla dell'Europa, e questo mi sembra anche una domanda politica molto attuale oggi, oggi in un periodo in cui certi paesi balcanici vogliono ad ogni costo entrare nella comunità europea senza sapere che entrano in un altro mondo. E questo fatto cos'è Europa? Europa negli occhi dei politici di oggi, questo è l'Europa occidentale. Io ho una lotta continua, una lotta continua nel senso che dobbiamo vedere l'Europa anche sul punto di vista dell'impero pizzantino. È l'altro lato dell'Europa, però questo altro lato è quasi sconosciuto. potrebbe essere o dovrebbe essere un impegno degli studiosi, adesso parlo direttamente a proposito dell'Albania, degli studiosi in Albania, che hanno una funzione di contatto molto speciale anche topograficamente tra l'Oriente, tra un Oriente pizzantino e un occidente cristiano cattolico. una funzione di riunione. E su questo aspetto vedo l'importanza di studi bizantini proprio anche per un paese come l'Albania. è importante collaborare per gli studi bizantini, per gli professori europei, magari per gli germani, per l'Austria o l'Italia, per collaborare per l'area balkana, per i nuovi centri che hanno creato, per sapere la storia. perché in Albania sono la nuova cattedra, sono i nuovi professori, per crescere e per collaborare in informazioni e in discussioni. Sì, questo naturalmente dovrebbe essere un grande impegno, ma significa anche una grande fatica, perché non è facile, soprattutto non dovrei fare accenno al periodo attuale, lasciamo questa pandemia, ma anche senza la pandemia è molto difficile di fare contatti. in questo senso perché, adesso spiego perché, perché anche in Occidente, in Germania, in Italia ancora un po' di più, ma soprattutto Germania, Francia, Inghilterra, l'interesse agli studi bizantini è molto e troppo limitato. e in molti casi anche troppo specificato. Vedono il mondo bizantino sotto aspetti di minimalità, di certi influssi letterari, ma molti, molti dei miei colleghi in Occidente, nei paesi che si chiamano europei, nel senso più stretto, non si interessano della totalità, dell'importanza totale e di tutti gli fattori che definiscono l'impero bizantino. Lavorano nella loro piccola cucina, per così dire, senza guardare al di là del loro margine. E questo è la difficoltà di contatti. Non viaggiano. Molti dei miei colleghi non viaggiano. Ci sono colleghi che non hanno mai visto paesi balcanici, per esempio, in un periodo, non parlo proprio dei mesi attuali, in un periodo in cui fare viaggi è veramente facile e che hanno anche in gran parte i mezzi, i mezzi di fare viaggi, ma non lo fanno. il contatto scientifico. Questo vuol dire sempre anche contatti personali, una certa volontà di incontrarsi con altri colleghi. E questo manca, io ho l'impressione, che manca nel nostro settore degli studi bizantini più che in altri settori. E qui è difficile, molto difficile, di dare consiglio come superare questo ostacolo. Questo mi sembra un grande ostacolo. I giovani sono ancora più interessati, però naturalmente i giovani non hanno dopo le possibilità e i mezzi di realizzare questi impegni. Sono sempre persone che hanno un posto alle università, alle accademie, che possono fare questi contatti e allarghire questi contatti, collegare con progetti. E qui mi sembra il grande problema, anche per il futuro, rimane sempre a singoli persone, a poche singoli persone, che cercano di fare contatti, di fare ponti, diciamo, di fare ponti tra colleghi nei paesi balcanici e, perché nei paesi balcanici, incluso l'Albania, è un grande potenziale. E sono i paesi balcanici, vorrei sottolinearlo in maniera particolare, i paesi balcanici sono i paesi in cui è esistito l'impero bizantino e esiste fino ad oggi la tradizione, più o meno naturalmente, in Bulgaria di più, in Romania in un'altra maniera, di nuovo in un'altra in Albania, in Bosnia, in Croazia, dove esiste ancora l'eredità bizantina. Un'eredità bizantina che non esiste, tranne in Italia del Sud, in nessun altro paese europeo. L'impero bizantino non esiste più, ma non è morto. E dove sopravvive in maniera particolare, queste sono i regioni e i paesaggi in cui una volta sono stati i bizantini. e questo è il mio punto di vista principale. Grazie, professore. Welcome time by time in Albania. Ma certamente, per me, ma io ritorno sempre volentieri nell'impero bizantino. Grazie.